Ciao ragazzi avete mai provato il cono cannolo? Lo trovi da Mancuso che è una gelateria siciliana ha veramente tantissimi gusti di gelato io ho preso croccante alla marena e mango e il cono di questo gelato è fatto con la cialda del cannolo ed è veramente super croccante quindi molto buono oltre a questo ci sono altri dolci tipo il cartoccio al pistacchio che era veramente super ripieno